all'organizzatore questo interessante incontro sottostanziale e poi passeremo la parola prego sottostanziale si sente? allora grazie per essere venuti come detto spero che sia il vostro interesse anche se per me è un po' complicato iniziare questo convegno visto il clima in cui si svolgono fatti polimici di ogni genere e oggi siamo qui per parlare di tre argomenti che si intersegano fra di loro quasi si affrovigliano le province qual è sicuro perché c'è stato un decreto che ha ha decretato l'allautazione proprio delle province propone e il federalismo compiuto che è più una affermazione in negativo avrebbe dovuto essere un pubblico interrogativo e soprattutto la parte più importante mi sembra le macro regioni finalmente per l'Europa dei cittadini questi tre argomenti prevedono una premessa una premessa importante che lega poi tutti e tre gli argomenti e che ci fa capire perché siamo in queste condizioni oddio come siamo in queste condizioni lo sappiamo ma perché ci siamo dobbiamo un po' argomentare abbiamo un Parlamento italiano che decelera sul federalismo quindi non lo rende ancora compiuto per la semplice ragione che fare il federalismo significa cedere consistente di vuote di potere non si fa nessun passo avanti verso l'Europa dei cittadini quindi l'Europa politica cioè quella che avrebbe evitato anche questo contrasto diplomatico con la Gran Bretagna a proposito del nostro con cittadini con Terraro con il nostro italiano che è stato ucciso barbaramente ieri perché ci sarebbe stato un Ministro degli Esteri che avrebbe rappresentato tutti gli Stati europei non ci sarebbe stato il Ministro degli Esteri italiano quello della Gran Bretagna e perché il Parlamento italiano non accelera non si fa promotore pur avendo determinato con questi suoi comportamenti qualcosa di in altri tempi si sarebbe detto del visoronorevole cioè l'Europa praticamente l'asse franco-tedesco ha dato a monte i compiti da fare a casa come un bambino che non è preparato per essere promosso gli dati i compiti da fare a casa per poi giudicare se l'Italia può stare in Europa bene oppure l'Italia pari alla Grecia ha bisogno di una cessione di sovranità molto più ampia di quella che già in qualche maniera abbiamo ceduto allora il famoso manifesto di Mentotene pensava l'Europa Unita la pensava perché voleva evitare le guerre che c'erano state la prima guerra mondiale la seconda guerra mondiale mai avrebbero pensato Spinelli e Rossi che all'inizio del terzo millennio non di quelle con armi si sarebbero fatte ma sarebbe bastardo mercato globale e due stadi uno forte relativamente alla debolezza degli altri l'altro altrettanto o meno forte la Francia che senza colpo che libra sono diventati i due stadi che danno le carte a tutti l'Italia è un'unica ora è vero che quello che pensavano Spinelli e Rossi era la guerra quindi per evitare la guerra bisognava stare insieme a fare l'Europa poi ci sono succeduti tante altre capizze italiane l'università di francese il test che avevano a cuore la costituzione dell'Europa unita ma non è vero che non c'è anche oggi qualche persona che ci perde la vita oggi un imprenditore sono diversi ormai diversi casi imprenditori che non riescono ad andare avanti la loro azienda non riescono a pagare tutti gli stipendi e arrivano a suicidio qualche operaio monolettico che perde il proprio posto di lavoro si suicida anche a lui allora non è vero che questa guerra finanziaria non porta anche le moni che sono molto più simbolici rispetto agli altri perché prima si usavano le ame oggi il discorso è molto assurdo allora qui bisogna che ci intendiamo no? governo Monti parimenti alla sanità dove sono stati fatti i tagli non solo in Abruzzo ma inizio tutti i dati i tagli netti per ridurre i costi poi hanno determinato non solo in Abruzzo un po' da per tutti forse in Abruzzo un po' di più questo modo di usare il macete in modo imprudente quindi senza riflessione alcuna ha portato ad una sanità che non risponde più alle richieste alle istanze dei cittadini e addirittura da una da una sanità che produceva mobilità attiva cioè pazienti che venivano da fuori a Abruzzo a curarsi in Abruzzo oggi assistiamo a una mobilità passiva per i pazienti che produce e si che vanno ora la domanda che vi pongo è che lascio la vostra considerazione è questa gli ospedali sono diminuiti solo il numero degli ospedali ma nei grandi ospedali i primari sono sempre gli stessi le parti sono sempre gli stessi come la gente pensa ad andare fuori a curarsi la risposta è semplice la chiusura dei piccoli ospedali è determinato un afflusso maggiore di persone in termini di pazienti in questi ospedali in questi ospedali il caos è totale e sapete benissimo che quando si entra in un negozio o anche in una casa e c'è molto disordine non si vede e non è riuscire a fare quindi analogamente molti con tutti i meriti che bisogna riconoscere in questo periodo per quello che sta facendo analogamente tagli all'invento le province perché bisogna riconoscere ma un altro elemento che lascia la vostra impressione e la impressione che mi ha detto di esempio è che se andassimo veramente a definire il federalismo e andassimo a costruire definitivamente l'Europa Unita a sapere chi è l'Italia non è l'Italia non solo di ciò per le province il Parlamento è l'Italia allora un Parlamento che vuole ammodernare l'Italia e frena sul federalismo non fa un passo nonostante le migliazioni verso la Costituzione che in Europa veramente è un Parlamento che oltretutto applica in favore di Monti la gestione del Paese l'amministrazione del Paese questo Parlamento credo che abbia bisogno non di legiferare in funzione del decreto Monti la chiusura del Provincio perché se si ripetesse ancora un po' di più sull'argomento forse scopriremo che ci sono c'è il livello europeo il livello Parlamento italiano regione province comuni connessi all'unione di questi livelli ancora aziende consorsi comuni a montare una marea di enti che prosciugano i soldi dalle tasche di fitte a tutto questo peso non lo possiamo raccontarlo il problema dei dettagli su voi però definitivamente è questo cioè si parla di troppe delasse ci sono troppi sperperi forse non abbiamo delle amministrazioni efficienti per rispondere a quelle sono risate di fitte a tutto questo come si rimerica potremmo dire l'Europa Unita ma l'Europa ci sa sono passati 60 anni non ancora siamo ancora a livello di trattati tra stati per quel poco di Europa che c'è quindi le province lascerei un po' stare perché probabilmente invece pensare a tagliare questi enti forse sarebbe più fortuna tagliare tanti enti tanti dei quali sono veramente inutili e sono sanguisugue per le abbiamo quindi più che vedere parlare di delle trasferite all'interno di questi tre diversi regione comune e provincia se noi cominciamo a distinguere ecco questo è un altro aspetto che volevo toccare noi a volte riteniamo che il comune è comune quindi è comunità perché c'è la politica perché c'è sindac e c'è il consiglio una comunità che ha altri elementi una comunità è comunità perché dalla squadra di calcio in comune al santo quadrono alle tradizioni alla storia la capita c'è una bella lapide del cilio di Santa Cecilia sono pagine storiche che restano ai cittadini il comune come lo attendiamo sindaco consiglio di assessore devono amministrare i denari che chiedono e rispondere ai cittadini con soluzione dei problemi e per le fasce tutte le soluzioni che bisogna ora se noi stacchiamo non rimaniamo convinti che un comune è tale solo perché c'è il sindaco il consiglio comunale e diciamo che un comune è tale con la propria storia le proprie tradizioni le proprie abitudini e che la politica è un qualcosa che serve come l'amministratore dei condominini l'amministratore dei condominini che fa? l'amministratore dei condominini ma non per questo se non c'è l'amministratore dei condominini cambia il ministro diventano 20 condominini 15 40 o non vanno a inserire l'abuso e rimondizia dei minuti il bibo dove vanno la vita allora se noi superiamo questo aspetto quindi il campanile così io il campanile Italia me lo tolgo subito io voglio essere cittadino europeo perché dalla Roma ho solo costo e nessun beneficio noi partecipiamo con tutti gli altri stati a finanziare il Parlamento europeo è di contro se non abbiamo dei buoni amministratori dei buoni imprenditori che sappiano farsi finanziare i progetti vari dall'Europa e più ciò che diamo di quello di libertà quindi forse al prossimo allora per farlo a breve abbiamo la certezza che c'è un sistema dei partiti del Parlamento italiano un sistema dei partiti che si arrocca sempre su se stesso perché la gente stufa la gente anche chi non capisce bene non ha capito bene non ha tempo per capire sa che il problema sta lì allora vorrei rivolgere un appello che è un altro dei motivi per cui ho invitato questi amici che rispondono a mia fiducia la mia stima e hanno l'età giusta per rispondere a quelli che sarebbero i miei desiderati la Bruzza ha bisogno di una base di gente di mari autonoma non possiamo sempre aspettare qualcuno di vera loro per dirci quello che dobbiamo fare o addirittura indicare più da bene e più da bene in base a quale l'interno non si è mai capito forse il criterio che uno solo compagente al proprio modo di vedere la politica che per esempio il modo di vedere la politica da parte di queste persone è di ammettamento un po' salmino e quindi formare dei gruppi non voglio dire compiare d'affari ma le compiare d'affari quindi tutti insieme riescono a mantenere il potere e fare forse i propri interessi si dei cittadini sicuramente no allora questi illusionisti che illudono tanta gente in Abruzzo come in altre regioni però per esempio in altre regioni in Puglia c'è il filtro che magari è una leadership più riconosciuta in Abruzzo questo non c'è e questi illusionisti che vengono da Roma voi mi tratteremo ancora domenica ma aspetta voi che fanno arrivano qui e da buoni illusionisti chiudono tutti tutti che tutti potranno fare le carriere tutti potranno fare per esempio i famigli e i suoi potranno fare i parlamentari poi come tutti gli illusionisti quando tirano fuori e sono solo conigli perché solo i conigli senza offesa per i conigli da che sono animali vivienti ed educati solo i conigli possono rientrare nella loro squadra tutti gli altri possono bene ma gli altri bisogna fare politica perché esiste un simbolo perché esiste un pseudo leader che si accroga di decidere della morte politica delle persone noi continuiamo a fare politica la gente che ama fare politica ha passione politica ha interesse per gli altri e non per se stesso continuerà sempre a fare così che piaccia o no a queste persone questa di oggi è un primo un primo convegno a esibirare degli altri perché vogliamo portare vorremmo che i cittadini diventassero parte attiva in politica perché altrimenti ci troviamo tutti nel nostro salotto non c'è parte a sentire il talk show i quali sono tutti manipolati senteremo la possibilità che purtroppo per voi anche oggi sarà così ma la prossima volta sarà tutto diverso tutti noi avremo piacere di poter intervenire di poter parlare ma siamo attenti di ascoltare bisogna uscire fuori da questo il messaggio che lascio nel mio capillo è uno l'ho invitato per questo perché ho notato anche in un po' questo intervento sulla stampa che soffre questa situazione soffre questa situazione eppure essendo un partito che ciò bisogna stare con attenti a cosa si dice come tutti per voi avuti il coraggio in qualche occasione di andare fuori dalla riva quando si va fuori dalla riva in politica si va più verso i cittadini che verso l'area noi questo coraggio l'avuto per questo è una vita e lo ringrazio per la vita perché oltre ad averlo fatto ha dato è stato uno dei momenti qualche momento in cui ci sono sentito non sono mi sono sentito qualcuno vicino e questi miei amici cari la giusta se proprio Monti e il Parlamento italiano vorrà volerlo vincere io credo che dovrebbero avere e qui chiudo dovrebbero avere il dovere sentire il dovere di lasciare cedere il passo ad altri e c'è una marea di persone giovani competenti seri che possono hanno delle competenze che possono fare veramente quei cambiamenti epocali di cui d'Italia bisogna e che loro non faranno mai pensiamo che sarà 30-40 anni dell'accordamento italiano cosa volete che faccia ma è lontano dalla segretaria è lontano da questa politica ecco posso selezionare e sfideremo sfiderò tutti i partiti a che la prossima volta quindi nel 2030 quando ci saranno le politiche non vogliono vedere e credo che questo sia un sentimento condiviso da tutti i cittadini abusesi nessuno che viene cavato in abruzzo per poi sparire e nonostante questo si cavano queste persone in abruzzo vanno lì quelli che rimangono visti questi mirati visto che si possono fare questo mirato questi signori che li perdono acquisiscono un tale potere che se possono fare questo possono fare con un tecnico edizionista che può alla fine qualcuno organico ai loro programmi viene premiato e tutti gli altri restano a casa allora non dobbiamo permettere a nessuno che non ci siano nelle viste persone che abbiano non solo in capacità e che siano stati perché i partiti sono fondamentali della burocrazia allora il partito è una palestra il partito è conoscenza delle persone il partito se è fatto da persone serie garantisce per i cittadini i candidati che ne hanno iniziano allora se tutto questo è vero al prossimo giro i partiti potrebbero scendere in competizione solo e esclusivamente su questo aspetto nel formulare le liste nel fare le liste chi si distinguerà dagli altri credo che avrà il contente di tantissimi cittadini nel processo se invece ci sarà ancora una volta l'omologazione io credo che in appuzzo a cominciare dai miei amici che sono qui presenti ma anche altri esponenti politici eccetera non siamo all'attrezza siamo conibli anche noi conibli non premiati magari ma siamo presi perché bisogna di stare di portarli e chiudere il leone dal cilindro non lo tira fuori il leone se lo mangia e qualcuno uno in particolare in mente a noi per aver preso un passo troppo spedito perché all'interno di questi partiti c'è anche questo si tira le gambe delle persone capaci perché il capace può diventare il libro può essere aumentare gli altri può essere aumentare gli astrati e noi vogliamo invece che nella nostra classe dirigente o singolarmente o come squadra si credi veramente in quella forza che sia una barriera per qualsiasi invasione che possa venire in amico e ne abbiamo già delle esperienze è assurdo la brucia terrestre è sconquista da parte della Lega Nord la brucia terrestre è sconquista da parte di Forza di Sud da Palermo la brucia da Roma la porta ma inizia a presta contenta la princesa la portata di tutti ma siamo o non siamo io non lo sono di nascita non lo sono diventato perché tantissimi anche ma dico un minimo di dignità di poco allora allora perché ci riconosciamo nel campanile quando dobbiamo giustificare anche il tutto e il contrario se il campanile esiste il campanile è sano fa bene è utile è giusto allora significa che il popolo deve avere la propria dignità deve vedersi rispettato il proprio voto per il proprio rappresentante senza intromissione una perché solo così per la produzione è vero la montagna è 50 milone è vero la montagna è 50 milone tra mezz'ora e si sta svumando abbiamo una terra perciata da lì non mi voglio di non fare su questo perché di un altro però voglio dire se noi riusciamo a non far tagliare le province con serenità una nuova classe dirigente al Parlamento italiano non dovete accontentarvi di fare i conti del giornale per quell'anno di fare i conti del giornale per ritardare in Pato Nero perché rispetta perché ritocca perché la gente vuole in Pato Nero è antipoese il cazzetto di turno scusate il termine che possa decidere da vita la morte di noi la politica anche con questo ma deve essere santo non bisogna stroncare cammieri nascenti perché fanno paura perché chi si mette in queste condizioni vuol dire che ha paura del confronto e se ha paura del confronto vuol dire che un perdente non può fare il nostro interesse abbiamo bisogno di giovani di giovani che abbiano la passione l'entusione di fare la vita non possiamo rimanere ancora ancorati a concetti a mentalità a comportamenti che pensavamo di aver accantonato il discurso della prima repubblica e ci siamo ritrovati una seconda repubblica e ci ne ha bisogno di una terza la terza repubblica è anche nelle vostre mani io vi darò la mano che posso tardi con questi incontri continuerai a invitare voi come altri ma mi raccomando credete in voi stessi dovete crederci se passano un po' di anni non servite ma di più allora per il bene per il bene per il bene per il bene nostro ma soprattutto ma non possiamo andare a parlare dei figli per il bene dei figli no? ora dobbiamo pensare ai nipoti perché alcuni figli stanno in vai a vedere allora stavo per dire ma non vuole essere mai indesco diciamo grazie a questi amici che sono venuti io faccio la parola al nostro amico che ha riuscito per bagliarci in questo pomeriggio e grazie a tutti buonasera a tutti l'amorizzo a questo incontro e per non essere conigli speriamo di poterci confrontare sempre più sui grandi problemi stanziale ha fatto ha delineato un po' argomenti di grosso interesse poi schiena dritta siamo abruzzesi cerchiamo di rivendicare questo orgoglio siamo un popolo individualisti questo lo sappiamo abbiamo anche poco il senso dello Stato però questo paese deve essere modernizzato come? cerchiamo di scoprirlo insieme il tema che ha dato a brusco libero domani che si chiama l'associazione è molto interessante province cioè quale futuro federalismo compiuto macro-regioni per l'Europa dei cittadini sono temi importanti che avrebbero bisogno evidentemente di tanto tempo però cerchiamo per quello che è possibile di confrontarci questa serata qui ci sono due ex cioè c'è un ex presidente di provincia e un presidente in carica quindi sarà interessante il confronto poi abbiamo il presidente del consiglio regionale d'Abruzzo un consigliere regionale io direi di cominciare proprio dal patrone di casa da Querino Testa proprio sul tema della provincia quale futuro sostanziale ha parlato di tagliamo da qualche altra parte non le province ci sono molti sprechi in Parlamento ci sono troppi parlamentari penso che con questo siamo tutti d'accordo ma iniziamo con Querino Testa provincia quale futuro grazie buonasera buonasera a tutti io non mi alzo perché diciamo in tono informale dobbiamo sarà una sorta anche di botte risposta per non forse utilizzarci sui singoli argomenti anche perché poi sono tanti i colleghi che giustamente prontamente invitato l'amico Giuseppe Stanziale ma oltre a fare i complimenti sugli argomenti di grande interesse su quelli che ha tracciato in nel suo preambolo l'amico Giuseppe Stanziale devo dire che tutto ciò che lui ha delineato deve essere poi considerato anche alla luce di due aspetti il primo sicuramente una mancanza di risorse mancanza di risorse a tutti i livelli livelli europei nazionali regionali provinciali comunali che ovviamente influisce sul periodo storico che si sta vivendo e anche un altro aspetto ossia che forse oggi la politica e coloro che interpretano la politica quindi anche noi che siamo seduti al dea di questo tavolo forse stiamo registrando il momento forse più basso di appeal che la politica quindi il contesto è ancora più difficile e probabilmente giornate del genere manifestazioni del genere fanno sì che ci sia un'aria avvicinamento tra coloro che siedono all'interno delle pubbliche amministrazioni tra l'altro in sala in parte tante donne tanti uomini impegnati a vario titolo e grande per l'amministrazione forse diciamo queste giornate sono importanti tra l'altro voglio fare anche una piccola battuta ha detto ha detto il direttore che oggi c'è un ex presidente di provincia e un attore presidente di provincia c'è un ex e forse quello che sarà l'ultimo presidente della provincia se andrà avanti questa riforma se le province verranno soppresse ma io ritengo e non lo dice quello che ho testa ma lo dice l'Unione Provincia italiana che ha stilato un programma rigoroso e abbastanza netto su quello che rappresenta oggi l'ente provincia e sui risparmi che l'ente provincia può procurare in caso di soppressione siccome i dati provengono dal ministero del tesoro quindi non sono dati inventati oppure approssimativi si da uno studio molto preciso si dice che il famoso decreto salvo Italia dovrebbe portare un risparmio di circa 65 milioni di euro invece la controproposta che quindi parliamo di cifre importanti la controproposta che l'Unione Provincia italiana ha fatto proprio qualche giorno fa a nome del del presidente che è tra l'altro il mio collega che è presente la provincia di Catania l'onorevole Giuseppe Castiglione una manovra un po' più composta un po' più complessa potrebbe portare in immediato anche a partire i prossimi mesi mesi un risparmio di ben 5 miliardi di euro quindi ovviamente superiore rispetto al decreto salvo Italia e questi 5 miliardi di euro verrebbero suddivisi seguendo tre profili ben precisi un miliardo circa nella riduzione delle province infatti io sono tra coloro che si scrive tranquillamente nell'elenco di chi vuole abolir costa abolir che è anche ridurre il numero di province in base all'entità degli abitanti probabilmente sono state create ad alte troppe province negli ultimi anni probabilmente si potrebbe anche nella nostra regione penso che quando in notte e tempo io e il mio collega amico di Giuseppe Antonio in giugno luglio scorso facemmo una proposta non era una puntata estiva ma era una proposta comprovata dai numeri quello di pensare ad unire alcuni servizi importanti delle province pescale e chiedi per arrivare domani anche a una unificazione di un'unica provincia dato che c'è anche una uniformità territoriale perché pensavo che in pescale Francavilla potremmo anche considerarla un'unica città questo potrebbe portare ovviamente dei risparmi ma anche dei servizi a maggior valore raggiunto quindi si parlava di questa contromanola formulata da lui di circa 5 miliardi di risparmi dicevo un miliardo per la riduzione delle province 2,5 milioni di euro 2 miliardi di euro per quanto riguarda la riorganizzazione degli uffici territoriali dello Stato e un miliardo e mezzo circa di una cancellazione delle società e degli enti strumentali io proprio su questo un miliardo e mezzo voglio un attimo porre l'accento perché forse molti cittadini non sapono oppure molti cittadini presi anche dall'onda mediatica che la riduzione della provincia ha fatto ha fatto capire agli italiani che forse oggi il male dell'Italia il male maggiore il costo della politica maggiore rappresentato della provincia e questo io te lo dico per tenere al caldo il mio posto perché probabilmente questa riforma può essere successiva alla scadenza del mio mandato forse non tutti i cittadini conoscono che esistono all'interno della nostra nazione un numero considerevole di agenzie e di enti strumentali che probabilmente la maggior parte delle quali non si conoscono né le funzioni né coloro che lavorano all'interno di questi enti e le cui funzioni potrebbero tranquillamente essere svolte dall'ente provincia e il costo della politica della diva a questi enti è di ben 22 volte superiore rispetto al costo della politica relativa alle singole province quindi parliamo già se si eliminasse solamente questa pletua di agenzie di enti strumentali e di enti a pariutitolo avremmo solo in questo caso un risparmio molto considerevole e di gran lunga superiore all'eliminazione delle province io non devo fare il difensore ad oltranza delle province però le province ritengo che forse siano scontate in questo periodo anche un deficit di comunicazione forse molti e nel 5.1 sono le dottor la parire molti non conoscono molti cittadini non conoscono le funzioni primarie dell'ente provincia probabilmente molti non sanno che ignorano nel termine proprio etimologico del termine che le province hanno una funzione primaria per quanto riguarda la gestione e la potenzione di tutte le scuole secondate quindi di tutte le scuole superiori noi abbiamo ben 76 o 78 plessi dislocati della provincia di Pescara la competenza per quanto riguarda tutto ciò che riguarda il compatto del settore lavoro e formazione che è un compatto importante con i centri per l'impiego che probabilmente potrebbero anche essere rimodulati riorganizzati e resi ancora più efficienti però questo è un altro tipo di discorso due comparti fondamentali il comparto delle energie cioè il comparto ambiente dove c'è il comparto energia il comparto acqua che viene sta staverezza è già stato delegato dalle regioni dalle regioni delle province tutti sappiamo della problematica che oggi la regione Abruzzo in primis la città di Pescara spavimento per quanto riguarda il discorso della gestione dei rifiuti e sui rifiuti le province svolgono un ruolo fondamentale perché sono attori principali per quanto riguarda il piano provinciale dei rifiuti parliamo di tutto ciò che riguarda anche la cultura e il turismo quindi i temi dove la provincia può svolgere un ruolo importante sono tanti ovviamente il ruolo può essere svolto al meglio se ci sono due funzioni due ingredienti principali innanzitutto che coloro che hanno il ruolo politico in questo periodo abbiano idee abbiano voglia di fare e cerchiano di razionalizzare al massimo le poche risorse che hanno a disposizione e di riflesso che vengano consentiti almeno un limite minimo di trasferimenti erariali da parte dello Stato e delle regioni nei confronti dell'ente provincia perché se l'ente provincia deve diventare così come lo si sta portando ad essere un ente che paga principalmente solamente gli stipendi e può svolgere solo una minima minimo costo di gestione a questo punto probabilmente l'ente provincia deve essere soffresso ma in questo caso devono essere soffresse anche i piccoli comuni e tanti altri enti siccome noi non vogliamo vogliamo che la Costituzione così come ha ribadito il Ministro della Funzione Pubblica Filippo Patroni Griffi poco giorni fa dove ha detto che l'Italia necessita così come anche in tutta Europa che ci sia una distinzione ben precisa tra regione provincia e comune questo può avvenire e avrà un peso se ci sarà anche una proposta finanziaria che deve essere necessariamente stare nelle mani di chi governa in questo caso l'ente grazie grazie al presidente di questa ci spostiamo dall'altra parte per creare il dibattito Luciano D'Alfonso ricorderà che quando è stato eletto presidente della provincia è stato il presidente più giovane d'Italia se lo ricorda D'Alfonso quindi dicevo abbiamo sentito quello in testa ascoltiamo adesso appunto Gio D'Alfonso come ex presidente di provincia cosa pensa cosa è cambiato io intanto devo complementarmi con chi ha avuto questa idea mi convince molto la denominazione dell'associazione Abruzzo libero è un Abruzzo molto ambizioso poi mi motiva l'impianto tematico di questa giornata che è molto esigente perché mette insieme tre grandi livelli di questioni che riguardano secondo me i tre più importanti livelli istituzionali grazie ai quali se una comunità ce la fa ce la fa proprio grazie al funzionamento di questi tre livelli istituzionali e poi mi coinvolge questo avere messo a confronto voci diciamo capaci di antinomia anche di contrapposizione tematica e voglio partire da questo oltre che da quello che gentilmente il Lorenzo l'albarile migliore ci ha fornito introducendo questi lavori io ho conosciuto un Lorenzo l'albarile diciamo molto più in prima fila adesso quando lo vedo a rete otto economi quasi costrittivamente che mette a dialogo tutti quei soggetti diciamo ho quasi un atteggiamento di sofferenza però sono convinto che tornerà a condizioni nella quale lui gioca da centravanti in prima fila allora che cos'è che voglio dire spero assieme ad altri bravi competenti potere anche allungare diciamo la cifra del dibattito che c'è in Italia su questi argomenti io non condivido l'atteggiamento che c'è stato in Italia negli ultimi 12 mesi quasi di stravaganza riformatrice mi fa piacere di vedere davanti ai miei occhi Mario Polleredi che so ha seguito negli anni passati tutto il processo riformatore dei livelli istituzionali del nostro paese ma chi mi può contrastare e contestare il fatto che negli ultimi 12 mesi noi abbiamo assistito ad una stravaganza riformatrice un giovedì di una settimana si diceva che si abolivano i comuni piccoli un altro giovedì si è preso di mira il livello delle province come se tutta la questione fosse di arrotondare un numero di sicuro di una pagina importante della vita istituzionale del nostro paese qual è la pagina del bilancio dello stato noi dovremmo reimparare a porci le domande dove vanno a parare le decisioni che stiamo attrezzando abolire le province che significa io prima ho armeggiato un po' col telefono ed è per questo che sono entrato in ritardo non per far pagare qualche pena al mio amico Labarine in ordine alla disapprovazione che opera il come conduce rete 8 economy ma poiché armeggiavo col mio telefonino per porre rimedio rispetto ad un'emergenza in Abruzzo il presidente Pagano lo sa bene si è chiuso un ufficio un ufficio che ha la denominazione di Abruzzo Lavoro ma non è vero che questo determini l'immediatezza di un ristoro economico del bilancio della regione perché la domanda che va posta con immediatezza è qual è la politica per il lavoro di questa regione e qual è la ricaduta di ristoro economico di razionalizzazione di voci economiche conseguente a questa chiusura qual è il di meno che viene da una provincia in salute che funzioni invalidare la provincia farla percepire inutile e poi chiuderla è chiaro che assomiglia ad una cosa funzionante ma è carica di astuzia se non di vizio vedete io ho imparato perché ho avuto tempo di leggere le carte e di studiare che si capisce meglio ragionando per opposti qual è il contrario della provincia se noi chiudiamo le province la realtà contraria qual è l'esistenza di tanti municipi che poi darebbero luogo ad una esplosione di individualità territoriale chi la fa poi la colleganza De Rita e Piero Bassetti dicono chi si fa carico delle infrastrutture di coesione chi è che fa in modo che accada lo sviluppo convergente guardate che quando si va in Europa si mangiano i biscotti bagnati di rum si vedono le bandiere con le stelle e poi si sente parlare di competizione e di coesione di competitività e di coesione chi la scrive la letteratura della coesione se noi organizziamo un territorio per individualità l'altro termine della questione che sollevo io rispetto diciamo il contrario della provincia è l'individualità dei municipi l'alternativa ulteriore si chiudono le province e si attrezza un grande progetto come accade in Italia e anche in Abruzzo chi ha più anni presenti in sala si ricorda il 1969 il 1968 quando partirono in Abruzzo i comitati regionali di programmazione avevano delle sezioni provinciali con il compito di indirizzare il cammino delle realtà e dei mondi locali dei mondi vitali per fare in modo che si intravedesse all'orizzonte una prospettiva di crescita economica regionale qual è oggi l'agenzia che è capace di mettere in piedi un progetto di crescita convergente siamo nelle condizioni di poter rinvenire sul territorio un grande progetto di crescita collettiva perché quello che ha detto sia il Presidente Stanziale che Guerino Testa accennando alla crisi che abbiamo davanti agli occhi alla crisi di politica alla crisi dei partiti alla crisi di progetto poi noi non paghiamo proprio su questo versante non si può azzerare il livello istituzionale e nello stesso tempo registrare l'assenza di progetto politico l'assenza di progetto di cammino collettivo che cos'è allora che io propongo intanto quando si fanno le riforme istituzionali evitiamo la stravaganza non è un tema pur che sia vi ricordate quei giovedì dell'estate passata ogni giovedì che si riuniva la commissione affari costituzionali della Camera usciva fuori una proposta che prendeva i titoli del Tg1 perché oggi non è più la gazzetta ufficiale che ci dà notizia di ciò che diventa norma nel paese ma è quasi un ululato normativo senza che ci sia la minima mediazione di quello che è l'insieme degli organi di corpi istituzionali intermedia allora che cos'è che voglio arrivare a sollevare qui primo vediamo dove razionalizzare come razionalizzare diceva Guerino Testa probabilmente si tratta di fare un lavoro sui numeri si tratta di fare un lavoro anche sulla fonte di legittimazione elettorale era eccessivo prima che il presidente della provincia venisse eletto direttamente se voi fate un conto ed una pesatura il presidente della provincia per la quantità e la qualità di legittimazione elettorale era quasi il soggetto istituzionale più legittimato a questa legittimazione non faceva da controcanto una quantità qualità di competenze e di poteri quindi non la vedo una violenza la revisione della forma della legittimazione però stiamo attenti concludo Lorenzo stiamo attenti perché esiste una elezione indiretta che non costringa i sindaci ad essere poi gli amministrati della provincia perché si ripristina l'individualismo territoriale ed è quello che è accaduto in molti enti di secondo grado dove i sindaci vanno a fare i senatori solo del proprio municipio e non interpretano un pensiero collettivo come serve al territorio che si deve mettere in cammino l'altra questione che voglio sollevare l'accendo come tema sperando che venga di preso dai miei polimisti che ho gomito e gomito con me guardate che il federalismo compiuto è esattamente una provocazione perché tutto sta accadendo ma non nella direzione del federalismo compiuto anzi vi do notizia io ho una confidenza personale col presidente della commissione affari costituzionali attuale quello della Camera che Pescara ha conosciuto un altro presidente della commissione affari costituzionali Donato Bruno il quale mi ha dato contezza che prossimamente l'accordo che si sta materializzando è quello di riportare dei poteri federalmente portati alla regione di riportarli al centro su grande parte delle materie che con il titolo quinto sono arrivate al livello delle regioni ne cito una che a me appassiona molto ma non solo a me quella delle infrastrutture oggi è in materia di legislazione concorrente il principio lo fissa lo Stato il contenuto lo stabilisce la regione e oggi è in materia di competenza regionale quanto alla concorrenza della competenza da domani ritorna tutta nella pregnanza di competenza dello Stato quindi non è federalismo compiuto ma soprattutto stiamo attenti perché noi in questi undici anni che abbiamo avuto dal 2001 al 2012 non abbiamo avuto una regione che abbia usato fino in fondo i poteri io come sapete sono alle prese con il lavoro dei miei avvocati perché mi difendo per la grande parte in ordine all'accusa di abuso di potere e poi c'è dell'altro che ha dei colori diciamo accesi e per i quali spero di prendere presco le misure ma mi affascina l'accusa di abuso perché per me nasconde la descrizione di un merito perché l'abuso evoca l'utilizzo del potere il contrario dell'abuso qual è? l'omissione oppure mi è recitato un bellissimo articolo di Gian Antonio Stella è l'ignavia rispetto al potere io ho visto a massi di ignavi che non hanno usato i poteri stabiliti dal titolo quinto della carta costituzionale trovatevi una regione che ha legiferato in maniera al riguardo circa quantità e qualità dei poteri stabiliti dalla novella del titolo quinto noi oggi non avremmo il presidente testa affannato sul porto non ce l'avremmo così come non avremmo l'isolamento dal territorio atriatico se ci fosse stata sedimentata una legislatura su questo il problema è che se poi si pone la domanda e qual è la legislatura su questo da attrezzare i partiti non hanno detto una parola su questo hanno organizzato le denunce hanno organizzato quantini di difese ma che i partiti abbiano prodotto un'idea su questo esiste poi un'avvertenza da avere su questo front grazie grazie ricordo l'unità che i giornalisti raccontano se poi c'è disapprovazione accettiamo i politici non questo è giusto per essere chiaro bene passiamo al presidente del consiglio regionale sempre sull'argomento provincia abbiamo sentito due riflessioni diverse ma sotto certi aspetti concomitanti anche per quanto riguarda i contenuti Lazzaro ha voluto occuparsi di un argomento sicuramente di grande attualità non semplice non facile non appetibile a tutti i palati anche perché quando si parla di revisione dell'assetto istituzionale territoriale del nostro paese si parla anche di argomenti abbastanza tecnici che hanno a che fare comunque con il delitto costituzionale con leggi che non sono diciamo di pronta immediata comprensione per tutti anche se poi ci si convive con le istituzioni non di come l'altro collere che quotidianamente quindi bisogna rapportarsi con esse volevo però fare un breve cenno allo sfogo se mi permetti Peppino che ti ho sentito fare all'inizio di questo incontro perché credo che sia soprattutto da lì che sia partita la tua idea di organizzare un incontro con i cittadini e che ci si occupi anche di queste cose cioè di a te non interessava quel che mi hai dato capire non ti interessava soltanto affrontare tecnicamente giuridicamente le iniziative legislative che si stanno occupando di provincia o di maggior regioni eccetera o comunque di assetto di architettura istituzionale ma ti interessava occuparti di temi che evidentemente sono all'ordine del giorno per tutti i cittadini cioè che cosa sta accadendo in questo paese qual è il rapporto tra la politica le istituzioni questo governo tecnico e i cittadini perché i cittadini oggi sono così distanti dalla politica perché hanno un rifiuto tra volte della politica e guarda caso tutte le volte che con le elezioni primarie ci si accosta cittadini il cittadino risponde esattamente al contrario di quello che i politici tradizionali si avvergono e questo sia un aspetto importante chi fa politica deve non essere oggi meno che meno autodeferenziale cioè deve capire che se parlano si occupano di politica soltanto con gli altri che la fanno è completamente fuori gioco io penso che invece deve essere particolarmente attento ce ne sono state tante di occasioni e di esempi da tenere in considerazione però l'ultimo di Palermo che è proprio l'ultimo arrivato è una dimostrazione di come un impiegato di Banco almeno così è stato presentato gli 30 anni riesce a far fuori addirittura un candidato che ha messo in fila tutto in pratica il coda della sinistra italiana e questo sta a significare che non è una questione che riguarda solo la sinistra sempre in chiaro anzi io penso che fosse a destra è anche peggio immagino che c'è oggi una assoluta esigenza necessità di coinvolgimento delle persone le persone più attenti più sensibili quelle che guardano con maggiore attenzione spero non solo i torcioni qui giustamente parlava in un certo modo il nostro amico Peppino io penso che oggi se un politico vuole essere in corso a quei tempi vuole capire il settore il clima i sentiment proprio il sentiment del cittadino deve uscire fuori da questa nicchia che purtroppo spesso lo avvolge e io penso che quindi anche questo tema dell'architettura istituzionale e del che sta accadendo in questo paese è una affannosa ricerca di venire incontro a questo sentiment popolare e alla necessaria anche contemporanea esigenza di ridurre i costi spese di questa incredibile macchina pubblica che assorbe così tante risorse ai cittadini italiani eccolo tutto questo va contestualizzato in questi termini quindi anche la riforma che vede protagoniste le province è collocabile secondo me in questo contesto questo contesto cioè che è quello di dare innanzitutto una risposta a una popolazione alla quale devi dare certe certe soluzioni alcune diciamocelo francamente demagogiche populistiche cioè devi devi venire incontro ad un'esigenza cioè dammi dammi non so che glielo dai però non può essere solo questo perché chi si occupa con con un certo con una certa consapevolezza da tempo e conoscendo le leggi come avvengono le cose come evidentemente il guerrino testo non ha parlato di come è possibile probabilmente ridurre le spese legate anche alle stesse province magari mantenendo le impiegi però tagliando in modo differente non come dire eliminando a più e pari questa istituzione intermedia ecco allora io penso che questo è il tema sul quale chi è voglio dire una persona che cerca di mantenere il buon senso pur nella bufetta che c'è allora bisogna che qualcosa lo dica che abbia un senso allora io credo che che quindi questa sia la contestualizzazione della di quel che sta avvenendo io non so quanto tempo ancora ci sarà no perché poi a questa evidente a questo evidente fenomeno di antipolitica si riesca comunque a dare una risposta a far capire che tu puoi dare come dire puoi puntare addosso a chi fa politica tutte le colpe di questo mondo ma senza le istituzioni di un paese canolla e quindi le istituzioni vanno difese le istituzioni vanno vanno comprese certamente e qui il punto poi chiudo rapidamente certamente vanno riformate perché è evidente che qualcosa non funziona è evidente che il fenomeno che soprattutto non funziona è la sorda posizione di competenze cioè non ci si può occupare delle stesse cose non so al comune in provincia in regione magari anche nel Parlamento Nazionale questo non è più possibile c'è una sovrapposizione di competenze che è inaccettabile e che provoca una lievitazione delle spese e dei costi oggi come oggi è inaccettabile allora io credo che con questo atteggiamento vada affrontato il problema così come ritengo che sia necessario parlare nel discutere di province e di quel che dovrà accadere perché poi il decreto salva vita di cui parlava ha avuto una testa prevede che in realtà poi le province non debbano essere abolite ma che debbano essere ridotte a non più di dieci componenti che il presidente della provincia è eletto dal consiglio provinciale fra i suoi componenti che sono tra l'altro componenti come dire eletti tra i sindaci sostanzialmente del territorio compreso appunto compreso in quel territorio io penso che anche questo sia un aspetto sbagliato da affrontare il problema che certamente non riduce i costi nei termini in cui viene immaginato dal legislatore che ha pensato a questa riforma ma bisogna contestualizzare in un'ottica della quale anche le regioni ha fatto cenno poco fa dal foso è giusto che si chiarisca quali siano i compiti il Parlamento cioè il sistema bicamerale del nostro paese non ha più senso per cui bisogna come dire l'architettura e la riforma deve partire da lì deve partire dal Parlamento nazionale capire bene la seconda camera se deve essere una camera delle regioni oppure no le regioni che ruolo devono svolgere e a quel punto capire anche se è giusto o non è giusto che vi siano così tanti comuni che piuttosto sia giusto colpabile io per esempio sono uno fra colori i quali pensa che l'eccessiva fermentazione dei municipi sia un errore che oggi bisogna cominciare a pensare che piccolo non è più bello come si è tanto immaginato in passato ma invece quando si è più grandi si diventa anche più competitivi poco fa c'era una cosa che parlava di competitività e allora la competitività che ci rende anche più forti è tale se non si è piccoli perché essere piccoli oggi dimette fuori il mercato a tutti i livelli e quindi io penso che bisogna discutere in questi termini qui ripensando alle province in un'ottica complessiva dare semplicemente il contentino a chi oggi pensa che le province siano esclusivamente un ente inutile allora questo a questo tipo di sport ovviamente io non ci sto perché non penso che sia così anzi penso che laddove vengono riformulate le competenze delle province e alle province vengano affidati dei compiti ben chiari perché non sono certo gli eletti coloro i quali poi rappresentano questo posto così alto che poi fa come dire fa fallire il nostro paese questo mi sembra anche ridicolo soltanto immaginarlo allora in una complessiva rivisitazione e le visioni del nostro assetto istituzionale forse c'è la soluzione al problema grazie grazie a Nataleo che ha un problema anche precedente quindi ci deve lasciare io partirei dal concetto di piccolo che non è bello c'è un bellissimo libro di Abram quando si parla di imprese e il piccolo non va avanti oggi il piccolo deve vivere in una filiera deve essere aiutato deve avere vicino la ricerca cioè deve avere vicino tante di quelle branche che la lo rendono non piccolo ma grande può rimanere piccolo ma deve diventare grande perché piccolo diciamo non è bello e vorrei dare anche ad un altro emergente qual è D'Alessandro D'Alessandro consigliere regionale proprio per una riflessione ulteriore sul futuro delle province nel nostro paese abbiamo ascoltato in maniera molto autorevole quanto hanno detto chi ci ha preceduto presentiamo D'Alessandro e poi andremo a toccare l'altro argomento che ci ha posto stanziare cioè quello dell'Europa dei cittadini D'Alessandro grazie grazie direttore buonasera a tutti e grazie veramente a Peppe Stanziare per il quale vi leggo un rapporto di amicizia nata nella mia prima esperienza in un'istituzione a 23 anni consigliere provinciale lui era segretare di un partito che non c'è più io ero capogruppo di un partito che non c'è più e questo accadeva nel 1999 quella esperienza in provincia che per me dura da sei anni prima di arrivare alla regione mi ha consentito di poter entrare nel merito e mi consente oggi di poter entrare nel merito di questo dibattito cercando di affrontarlo non nella vesta di coloro i quali immaginano l'approccio a problemi da tifosi favorevoli e contrari alle province ma bensì con un approccio un po' più generale che dal mio giudizio è il problema che sta alla base di scelte incomprensibili che un Parlamento di nominati e solo un Parlamento di nominati poteva fare nella revisione della organizzazione dello Stato perché qui il problema che si accredisce non è la provincia non sono i comuni è l'idea della rappresentanza è della funzione della rappresentanza e si arrivò a teorizzare la non importanza della funzione della rappresentanza rispetto a riorganizzazioni dello Stato attraverso le sue articolazioni che prevalgono sulla democrazia ci sto nella partita competitiva di chi ritiene che lo Stato deve funzionare non ci sto in questa logica demagogica che ha voluto per esempio fare immaginare agli italiani che il costo della politica e il cattivo funzionamento dello Stato fossero i comuni sotto a 1000 abitanti o addirittura fossero i comuni fino a 3000 abitanti o addirittura i comuni fino a 10.000 abitanti che avranno consigli comunali comuni di 10.000 abitanti e di 10 persone 6 di maggioranza e 4 di minoranza consegnando a due persone esattamente a due persone il destino di quella cittadina che poi in valore assoluto 60-40% 6 in 4 però in realtà saranno due solo persone che decideranno sul destino sul funzionamento o meno di quella realtà da 10.000 abitanti sono alle prese nel fare le liste in comuni di 1000 2000 abitanti le liste di 6 persone abbiamo ridotto comunità di 1000 2000 3000 abitanti ad avere il diritto a 6 persone che le rappresentano non è un discorso di quantità è un discorso di qualità della rappresentanza di diritto alla rappresentanza ciò che viene negato l'aggressione alla provincia e ai comuni in realtà è un'aggressione alla vicinanza a ciò che Luciano e Alfonso spesso evoca in contrapposizione alla distanza e questa è la partita è la partita della distanza contro la vicinanza e io ho stato dire sui giornali in questa partita ci si inserisce anche un'altra idea che nel momento in cui le regioni non svolgono fino in fondo il proprio dovere non hanno esattamente consapevolezza del proprio ruolo come a mio giudizio capita in questa regione che cosa entra in campo magicamente un altro potere ancora di più la distanza dei parlamentari la parlamentarizzazione di una regione rispetto invece al regionalismo che per chi viene dalla nostra tradizione dovrebbe essere il trionfo dell'affermazione del funzionamento dello Stato proprio basato sulla vicinanza come teorizzava come iniziò a teorizzare appunto Don Luigi Sturzo e nel prepararmi alla serata di oggi mi sono andato a rivenire in un attimo un cercato vedo il professor Collevecchio spero di non sbagliare perché certamente mi richiamerà nei riferimenti storici ma spero veramente di non sbagliare quando nel 1865 viene promulgata la prima legge di funzionamento dei comuni in provincia del Regno d'Italia e lì si afferma l'idea non di uno Stato centralistico centralistico ben più forte esattamente quello che si sta affermando oggi l'idea cioè di uno Stato guardiano che si contrapponeva allo Stato funzione che già iniziava ad emergere invece per esempio in Francia l'idea di questo Stato guardiano che convoca a sé e avvola a sé tutti i poteri tutte le competenze tutte le funzioni e che oggi ritorna a quella impostazione esattamente nel 1865 ci dà la misura anche di come è implosa nel periodo la classe politica perché a me fa specie che un partito del quale io limito credo compiti non abbia fatto una rivoluzione liberale sulla battaglia contro l'aggressione alle autonomie locali che ha perpetuato un governo falsamente liberale che invece ha imposto esattamente il contrario della propria filosofia cioè della vicinanza di uno Stato funzione del diritto di cittadini di scegliersi la propria rappresentanza cioè chi teorizzava lo Stato leggero ha applicato esattamente lo Stato più pesante che noi conosciamo nell'ultimo periodo vado alle conclusioni perché sono convinto che torneremo sulle altre questioni con la legge 142 del 90 si teorizza secondo me la più bella teorizzazione della provincia come ente intermedio tra che cosa? tra i poteri che stanno sopra la provincia e i poteri che stanno sotto la provincia cioè tra i comuni e lo Stato si teorizzava si cotizzava una funzione non una funzione intermedia che doveva fare la provincia può risolvere questa funzione intermedia il consorzio di comuni a livello provinciale questa è la follia che sta alla base della scelta allora se potessi mettere in discussione e questo lo faccio volentieri il pilastro delle province è la configurazione territoriale che non raggio più il Presidente D'Esta parlava di un numero di abitanti io vorrei che si passasse da province su base storica così come l'abbiamo conosciuto organizzata per esempio Abruzzo Chied l'Alba Piscale e Teramo ad ambiti ottimali per creare aggregazioni provinciale a mio giudizio un'area metropolitana di Piscale è l'abito ottimale per quell'ente intermedio che svolge la funzione per quel territorio che non potrebbe svolgere la stessa funzione per esempio in un ambito ottimale territoriale che mette insieme l'abile interno non è solo questione di quantità è questione di funzionalità dei territori che hanno bisogno di chi faccia l'accoordinamento non può essere risolta questa funzione da un consorzio deve svolgere il ruolo la provincia rivista le sue funzioni rivista le sue potenze ma certamente rivista anche nei suoi ambiti territoriali grazie grazie